Il portavoce del Movimento 5 Stelle a Policoro sono io, chiunque degli attivisti simpatizzanti del Movimento voglia parlare di movimento lo deve fare con me. Punto, non c'è altro. Sarebbe bello che il cittadino che ci vota sapesse tutto di noi. Ora passo la parola a Olga Colletta, esponente dell'Italia dei Valori. Buonasera Policoro. Poche parole. A nome del segretario regionale Rosa Mastro Simone, del nostro segretario provinciale Rosa Carnitano e del segretario cittadino Varpino Varasano e di tutti noi candidati dell'IDV, grazie. Grazie per le 995 preferenze che ci hanno portato ad essere il secondo partito di questa città. Per essere un partito che non esiste, beh, siamo partiti bene, penso, no? Siamo un partito giovane ma che nasce quindi già grande. Il nostro sostegno per Gianluca è totale e pertanto se la settimana scorsa abbiamo vinto la prima battaglia, la prossima settimana dobbiamo vincere tutti insieme la guerra. E sa cosa vi dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai! Battate con l'anello, io ho carta bianca! E ci si pulisca il culo!